La provincia autonoma di Trento ha un sistema di società controllate, nove, e partecipate di più, quindi molto numeroso e organizzato. Va detto prima di tutto che sia la provincia, quindi l'ente pubblico, che le società che sono braccio operativo e che quindi sono serventi, sono strumentali, stanno dalla stessa parte. Quindi i controlli normalmente sono collaborativi e sono, in aggiunta a quelli previsti dal Codice Civile, il Collegio Sindacale, l'Udvia e quant'altro, funzionali e utili a fare in modo che l'operatività della società sia migliore e sia nel modo migliore rispondente agli obiettivi che la Giunta dà alle società per svolgere la propria attività. Il tema oggi è analizzato sotto più profili e da più angoli visuali, anche da parte di chi svolge l'attività di controllo contabile, la Corte dei Conti. Credo che avremo dei contributi estremamente interessanti per una realtà come la nostra, molto composita, dove le società per lo sviluppo del territorio giocano un ruolo fondamentale.